Ho capito chi è, no non è lei Io non sto capendo Eh, Ludovica Pagani con Icardi No, non lo so, vabbè Ma ragazzi, ma è... Ah, Icardi, Icardi, Icardi Icardi con... Icardi so chi è, ma non è lui La Pagani con Vinicius Junior Chi è Mauricio Junior? Vinicius Junior Eh, non so chi sia È un giocatore della Real Madrid Non so chi sia Il Chiello Chiellini? King Kong Chiellini? Chiello? Chiello? Sì Chiello, no non è Chiello Ah, Chiello c'è stato che si è scopato in Roma però Il Chiello Nazionale? King Kong? No, il Chiello degli Fsk Ah, no io parlavo di Chiello Chiellini Il giocatore del... Però scusami, ecco, anche il mio moderatore Dice, vuoi fare gossip Ma conosci tre calciatori messi in croce Ma perché non seguo il calcio? Cioè, sono quelli soliti Petagna perché se lo scopava a Chiello Eh, me lo posso dire, aspetta L'ho detto nei video, non mi ricordo L'ho detto Ah, è Petagna perché se la faceva con Chaglia E poi basta Gli altri non è che sono molto bene Però tu mi stai seguendo che questo ultimo gossip Non è Petagna No, non è Petagna Però è un giocatore che vive in Italia Vive in Italia? Che cazzo? Sembra di giocare a indovina chi, santo Dio Vive in Italia Fammi vedere subito su internet Perché non lo so Cioè, lui lo conoscevo di nome Ma l'hai conosciuto di persona, no? No, ma va va Sei troppo generico, bro Francese Ci vuoi dare degli indizi un po' più mirati però, eh Allora, non gioca in Italia Non gioca in una squadra italiana Prende tanti soldi all'anno E tutti i calciatori prendono tanti soldi No, ma lui molto più degli altri Non è di origine italiane Ho capito Ma ha vissuto in Italia, comunque Ed è il Sharawi? Non lo posso dire Ok Quindi Cioè, puoi tirarmi anche i nomi Ma io non ti dirò mai di sì Ok E se la fa Cioè, e questo calciatore che ha vissuto in Italia Che è o è il Sharawi o Momo Salah A questo punto Tu conosci Momo Salah? Chi? Salah Non so Il faraone Non conosci il faraone Il faraone chi ha? E il Sharawi Ah, l'ho sentito di nome, sì E con chi se la farebbe questo calciatore? Con una autoinfluencer Una autoinfluencer ma che è nel mondo del calcio O non c'entra niente con il calcio? Da quello che so io non c'entra niente Da Pagani guarda che ha fatto le cose con il calcio Ora però ti aspetti che ti dico Ah no, allora c'entra Eh sì, sì Sto facendo te Ah, non è che Scusami, scusami Posso chiederti una cosa Non razzista ovviamente Ma per capire meglio Il calciatore in questione È bianco O nero Eh, fammi vedere Eh, sto vedendo adesso In alcune foto Bianco In altri un po' Nesquik Un po' Diciamo Un po' Egiziano Il calcio delle droghe Grazie 13 gol Grazie È david 13 No, non so chi sia Vabbè Mi stai confondendo È questa influencer È anche youtuber O è TaylorMega No, non so se è TaylorMega No, è terza con Tony Ma chi è che si è lasciata da poco? Non sto chiedendo a te Cravin Prince Boateng Sì? Boateng Fa vedere Boateng l'ho sentito No, non è Boateng Perché non guadagna tanto Guadagna molto poco Cioè È a fine carriera Vidal Conosce Arturone Vidal? Sì So il nome Ma non Non so neanche come ha fatto Non credo sia Ronaldinho Vabbè Basta Basta E con chi Chi è questa? Se esce Se esce Lo vedete sul canale Il faraone Roberic Roberic Chi è l'anzata? Eh Valentina Vignani E il faraone Valentina Vignani è fidanzata La Sabri Gamer è fidanzata Tutti fidanzati Naomi E Eder Chi? Naomi De Crescenzo E Eder No Non posso dire niente E Charawi con Federica Spano Che Federica Spano? Non so Mi ha detto Burn the Lord Eh non lo so Sai Vabbè ma Uscirà raga Tanto Ma Aspettami Ma la ragazza è una tiktoker O è Chiara Nasti No no È Chiara Nasti Veramente? Ma va va Allora Posso Posso fare una cosa Me lo puoi scrivere in privato Ovviamente non mi frangerò Il Il Whatsapp Perché sarebbe illegale Mi potresti denunciare Sì A vero Sai che non lo farò Però Non lo fare Cosa? Sai che non lo farò Comunque De linciarti Però No no Non lo faccio Non lo faccio Giulia Delellis E il faraone Il charawi Eh non lo posso dire Ti scrivo Le iniziali Così lo capisci E a suo punto Dali a tutti Ah ok ok Ma perché Mi sta interessando Questa roba Scusa Il per ora Trip Giulia Delellis In crisi Con Andrea Iannone Ti ho male Del Whatsapp Vediamo Whatsapp Ah Ok 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 Ora ti scrivo Anche perché Aspetta È illegale Ragazzi Se vi faccio vedere Il Whatsapp Senza Sì è illegale Però Vi posso dire Una cosa Questo Lo posso dire Durante Durante l'intera stream Sono stati Nominati Entrambi Non dico altro Sì 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 Ah ma io adesso Devo andare a reccare Il video di stasera Quindi ci sentiamo Eh Cosa? Devo andare a reccare Quindi ci sentiamo Eh Va bene Va bene Va bene Devo andare a fare Un bacione Un bacione Ciao Ciao La squadra snitch Eh Ve lo dico anch'io Ve lo dico Non dico altro Che non voglio dire Non la sono anch'io Sì pronto Buonasera Allora Che ore sono? Ah mi ha fatto perdere Il telegiornale Andiamo sul TG2 Telegiornale morente Grazie 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 Grazie.